Salve proprio YouTube, Alberto Neogeo qui Oggi video log So questa è un'incodatura un pochettino più classica Rispetto a chi mi conosce Questa è un'incodatura che usavo più nei vecchi video Però insomma sono tornato a fare questa incodatura Per fare un video un pochettino più veloce Anche se non sarà veloce, c'è un sacco di cose da dire Un video un pochettino più veloce e un pochettino più agile Rispetto a quelli che ho fatto ultimamente Allora, come avete visto c'è stato Non so se avete visto in realtà Perché siete un po' pochi però Ho un attimo stoppato la produzione di video su Dolphin Gamer Non perché sia in crisi Anzi in realtà di cose da fare, da dire ne ho troppe Anzi forse proprio per questo che ho stoppato Perché ne ho veramente troppe Ne avrei veramente troppe da fare Quindi ho deciso di fare un po' un attimo di video log Magari posso continuare a fare dei video log Un pochettino anche per riempire un attimo Lui che sono i vuoti del canale Anche se non so se potrei anche pubblicare questi video log Anche su Facebook volendo Allora, un attimo Per fare un attimo il quadro della situazione Serve anche a me di tutto quello che sto facendo Almeno nella sfera del video ludico Del video gioco in questo periodo Allora, sto giocando un sacco di roba Adesso ultimamente mi sono ritrovato di giocare un sacco di roba Vediamo un attimo tutto quello che sto giocando Allora, iniziamo con le cose che ho riscoperto Ho ripreso, ho riscoperto ultimamente L'altro giorno, la strassettimana GOG ha rilasciato a grande sorpresa per tutti Diablo Il primo Diablo In company, diciamo In associazione con Blizzard Hanno rilasciato una nuova versione Sì, una nuova versione di Diablo Che è riadattato per Windows 10 Con la risoluzione stracciata O se no la risoluzione originale Quindi tutto riadattato per essere rigiocato oggi Quindi io l'ho ovviamente subito preso Lo sto rigiocando un po' piano piano Devo dire che Non so se ci farò un video Potrebbe essere anche materiale per video Chi lo sa potrei fare una sorta di confronto tra Quello che io ricordavo E quello che in realtà è Diablo Era Diablo fondamentalmente Anche perché mi sono accorto che Il mio ricordo era molto diverso Da quello che era Diablo originale Cioè io pensavo che Molte cose, diciamo Che sono state introdotte in Diablo 2 Io pensavo fossero Ci fossero già presenti in Diablo 1 Invece no E infatti mi sono trovato davanti Un gioco veramente molto ruvido Veramente molto spigoloso E mi sono ricordato che era un gioco ruvido E spigoloso anche all'epoca Insomma era veramente ostico Era ostico Ostico non tanto perché è difficile Perché comunque difficile lo è Ma ostico perché È proprio Diciamo che è proprio C'è un'idea Che piano piano viene plasmata Perché all'epoca Diablo era praticamente il primo A fare quel genere di giochi Di RPG Action RPG Basati sul loot e via dicendo Basati sul loot però C'è poco loot Rispetto a quello che succederà Poi dopo con Diablo 2 E tutto quello a cui siamo abituati oggi E quindi è un gioco Molto più seminale Molto Molto Anche molto Difficile Ma non tanto perché Difficile Tanto la difficoltà del gioco Come dicevo poco fa Ma prima perché Anche nei suoi comandi Nella sua giocabilità Non esiste il tasto corsa Non esiste Un tasto per evidenziare Il loot per terra Tutto è molto macchinoso Anche acquistare cose Acquistare equipaggiamento Capire Cosa va meglio Cosa va male Quale equipaggiamento Usare Quale no Insomma è un gioco Che mi sta mettendo molto alla prova In un certo senso Perché È difficile È difficile Proprio ruvido Bisogna tornare E fare un'opera Di ricontestualizzazione Io che di solito Sono abituato a fare Ropera di ricontestualizzazione Perché gioco Le avventure grafiche Degli anni 80 Che sono giochi Ingiocabili oggi Però anche con Diablo Devo fare un po' di sforzo Perché è veramente Non è Non è user friendly Diciamo Assolutamente no Però A me è piaciuto molto Rivivere quelle sensazioni Degli anni 90 Dell'action RPG Degli anni 90 È stato fantastico Anche se io comunque Sono uno che ha giocato Molto di più A Diablo 2 Rispetto a Diablo 1 Su questo Honda Ho ripreso un attimo Per giocare a Torchlight Il primo Torchlight Oltretutto L'anno scorso Ho incontrato Non dico conosciuto Perché non ci ho parlato Veramente molto poco Ho incontrato Il creatore Di Diablo E Torchlight Ho ripreso un attimo Torchlight Così tanto per Un gioco veramente Molto carino Godibilissimo Questo godibilissimo Ancora oggi Vabbè Un gioco Un primo più recente Però anche lui Ha i suoi belli annetti Perché comunque Il gioco del 2009 Quindi insomma Ha già dieci anni Sulle spalle Il 2 è già uscito Già da diverso tempo Sarbbe carino Se facesse uscire Anche il 3 Ma non credo Che Mi sa che I creatori ormai Si sono tutti separati Quindi non so Se verrà Se verrà Se verrà fatto Altro gioco Che sto giocando In questo periodo Sleep Stream Ci farò sicuramente Un video secondo me Si tratta di un Quindi non dirò tantissimo Si tratta di un Racing game Sullo stile Un po' retro Sullo stile Outrun Ce ne sono tanti In questo periodo Ne sono usciti Insomma in questo periodo Diversi Anche perché Immagino che sia Un banco di prova Per molti Aspiranti Programmatori O Game designer Quindi molti Provano a fare Dei Sorta di Questi racing Arcade Molto Molto classici Sleep Stream È un po' in questo filone Però È molto carino Cioè è fatto Molto bene Secondo me Un gioco che è stato Regalato Regalato Insomma dato Nell'Humble Bounsley Di questo mese L'ultimo Che è uscito Molto carino Mi sta piacendo molto Giocabilità molto Outrun Ha qualche differenza Ovviamente Entrerò più in dettaglio In un video Sicuramente Perché merita Tanto Un giochino un po' così In realtà Poi un gioco arcade Non è un gioco Che richiede molto tempo Un gioco che Dopo aver fatto Due o tre partite Si è già preso la mano Su come si fa E niente C'è una gran rigiocabilità Proprio come era Il vecchio caro Outrun Quindi un gioco arcade Un po' così Veloce Altra cosa che sto giocando In questo periodo Ho preso in mano Quello che si chiamava Devil's Dare Adesso Devil's Dare Non si chiama più Devil's Dare Si chiama Street of Red Perché io mi avevo perso Questa cosa Praticamente il gioco È stato ripubblicato Adesso vi spiego qual è Per chi non sa cos'è Devil's Dare È stato ripubblicato Su Switch Su Nintendo Switch E in questa occasione Ha fatto una sorta di versione Deluxe E gli hanno cambiato il titolo Adesso si chiama Street of Red Un po' la Street of Rage Come grafica Del titolo Street of Red Devil's Dare Deluxe Cos'è Devil's Dare Deluxe Street of Red Adesso ve lo spiego subito È un brawler Un picchiaduro a scorrimento Un 2.5D Come si dice ogni tanto Una roba Alla Diciamo Street of Rage Appunto Street of Rage Mi chiamo il Dragon Che dice Final Fight È un picchiaduro fatto In realtà È molto particolare Perché ha delle meccaniche Molto sue Molto Cioè non è un classico brawler Anche se lo può sembrare Perché ha questa grafica In pixel art Piena Piena zeppa Di citazioni A tantissimi altri giochi Sia del genere Che non Però Non Diciamo che Nonostante questo Il gameplay È un po' È originale Nella sua cosa È un po' diverso Ci farò sicuramente Un video A brevissimo Perché L'ho ripreso in mano L'ho rigiocato L'ho rifinito E mi è piaciuta Questa nuova versione Che hanno fatto Perché hanno cambiato Qualche cosina Hanno reso il gioco Più facile Perché effettivamente Era un gioco Molto ostico Quando l'ho comprato E giocato la prima volta Quando ancora si chiamava Delice Dare È un gioco molto ostico Adesso invece è un pochettino più Affacilitato Quindi più Forse anche troppo Però insomma Un pochettino più affacilitato Quindi più abbordabile E dimostra che Essendo Abbassando un attimo Difficoltà Dimostra La qualità Del Del suo design Delle sue Delle idee Che ci stanno dietro E sicuramente Ci farò Un video sopra Perché Secondo me È uno di quei Brawler Degli ultimi tempi Che merita Diciamo Un'occhiata Io ne ho giocati un paio Sono rimasto Io sono rimasto Molto deluso Da cose tipo Mother Russia Bleed Che tutti osannano Tu dicono che è bellissimo Ma a me Sinceramente Non mi è piaciuto tantissimo Mi è piaciuto di più Davis Dare Più Street of Red Che in realtà Molti Vedo che molti Non hanno apprezzato Proprio perché Ha uno stile tutto suo Un po' diverso Poi mi è piaciuto di più Di Mother Russia Bleed Poi magari Ci ritorneremo anche qui Su un altro video Cosa sta giocando in questo Cos'altro Sto giocando in questo periodo Vabbè Adesso ho finito Un'avventura grafica Proprio da pochissimo Le avventure grafiche Come Io sono un grandissimo fan Delle avventure grafiche Ma se ancora non lo sapete Io non ne parlo quasi mai Nel mio canale Di avventure grafiche Perché Perché Di solito Questa è una materia Che io trasferisco In Calavera Caffè Che è il podcast Delle avventure grafiche Quindi è tutta un'altra cosa Che sto gestendo Assieme Assieme ad altri Assieme a Cristiano Caliendo E Gianluca Santiglio E insomma E quindi È un altro progetto Che parla solo Di avventure grafiche Quindi tutto quello Che riguarda Le avventure grafiche Di solito Lo devio là E non lo metto Nel mio canale Una volta lo facevo Adesso non lo faccio più E quindi Adesso per quello Vi rimando A quello Ho finito Un'avventura grafiche Che si chiama Mage Mage's Mage's Iniziation Che è un'avventura grafica Di un altro Un tip che aveva già fatto Un'altra avventura Punte clicca Vecchio stile Questa È un Questo Mage's Iniziation È una sorta Di omaggio A quello che era Quest for glory In realtà Il fatto Adesso non mi sto qui A dire Chi è Quest for glory Tutta roba che vi rimando A calavera caffè Però insomma È un gioco Che mi è piaciuto Mi è piaciocchicchiato Anche se in realtà Ho visto che C'è una componente Viene introdotta In questo gioco In questa avventura Punte clicca Una componente RPG Che non serve Assolutamente a nulla Fondamentalmente Perché i vecchi Quest for glory Erano una sorta di ibrido Tra una Punte clicca E un RPG Questo gioco Fa una citazione Di questi Quest for glory Ma in realtà La componente RPG È molto marginale Siamo davanti a un'avventura Grafica Normalissima In realtà Che si maschera Un po' Da ibrido Ma in realtà È un'avventura grafica Anche molto lineare Cosa che i vecchi Quest for glory Non erano Cos'altro Sto giocando In questo periodo Allora Sto Giocando tantissimo A Immortal Redneck Del quale ho già fatto un video Ve ne ho già parlato Però è un gioco Che È un rug like Anzi Un rug light Che Mi ha preso Veramente tanto Sto facendo le sfide Giornaliere Quindi ci gioco quotidianamente Ieri sono riuscito a Completare un Come si chiama Un achievement Particolare Cioè quello di finire Una piramide Senza mai Ne cambiare armi Ne usare Raccogliere una scroll È un gioco che mi sta divertendo Tanto Potrei farci una live Anche sopra Potrei tornare a fare La live Quelle live Che sono Quella che era A tutto rogue Quella che facevo Due anni fa Ormai Quanto tempo è passato Facevo una serie di live Su dei rug like E potrei tornare a farla Volendo In realtà L'unico che sto giocando È quello Fondamentalmente Non sto giocando Dei nuovi Però Immortal Redneck Insomma Ormai lo conosco Molto bene L'ho finito Sto facendo Diverse sfide Diverse cose Quindi Mi sento abbastanza sicuro Per farci una live Che possa essere anche carina E si pesta anche molto Anche perché c'è una modalità twitch Che potrei anche provare E sperimentare Ho ripreso in mano Sto riprendo in mano Un po' di vecchi fps A caso Tra questi sicuramente Eretic Madonna Quanto mi piace Eretic Mi piace tantissimo Il vecchissimo Eretic Dei Raven Potrei farci una live Potrei farci una live Vorrei tornare a fare una live Anzi Dirò di più Non mi dispiacerebbe fare Un ciclo di live Un nuovo ciclo di live Dedicato agli fps Gli fps Quelli classici Anche non Ma anche quelli normali Quelli nuovi Normali Anche quelli nuovi Poi mi piacerebbe molto Affrontare un po' tutti i classici Adesso Non so se fare Doom Perché Doom Se mi avete seguito Nelle varie live Che sto facendo Con Dal quale sto collaborando Con Videogiocchi e Sofa Qualche settimana fa Ho fatto una live Su Ho fatto una live Su Nel quale poi Mi sono appropriato Della cosa Ho iniziato a parlare Solo io A monopolizzare un po' la cosa Un po' così Perché Doom è un gioco Che io adoro È uno dei miei giochi Della mia vita Quindi Però quindi In questo ciclo di live Sugli fps Credo che non farò Doom O comunque se lo faccio Faccio tipo una roba Di Doom 2 O una cosa un po' particolare Perché l'ho già affrontata Lì E quindi non mi sembra giusto Fare un'altra live Potrei fare una live su Il prossimo sarà Secondo Eretic Perché Eretic Mi piace tantissimo L'ho ripreso in mano Mi sta piacendo ancora di più Quindi Un po' Eretic Poi una serie Anche tutta una serie Di altri vecchi fps Non mi piacerebbe Anche riprendere in mano Quel che ne so Duke Nuke The 3D Quake O anche Non so Turok O insomma Quegli fps Un po' Wolfenstein Potrei fare anche Tutti i Wolfenstein Anche se è un po' difficile Fare quello Quello del 2009 Però insomma Una serie di Di live Su Su Wolfenstein Su tutti gli fps Più storici Non mi dispiacerebbe Farla E quindi state in campana Perché sicuramente Adesso tenterò Di fare una cosa Poi riuscirò Adesso Le live In realtà Sto iniziando Inizia ad essere impegnative Perché Sicuramente sto partecipando A molte live Del divano Anzi Adesso dovrei uscire A pubblicare oggi Questo video Quindi Stasera guardate La live del divano Su Hyper Light Non mi ricordo Come si chiama Scusate Comunque guardate La live di stasera Del divano Di videogiochi sofà Di videogiochi sofà Perché merita Ovviamente tanto C'è anche un ospite Particolare Io purtroppo Oggi stasera Non ci sarò Forse magari Riuscirò ad arrivare In chat Più avanti Però non ci sarò Per la live Quindi non sarò Tra gli ospiti Che parlano Come le altre volte Però comunque Sto gestendo Sto gestendo Sto facendo Sto facendo Le live Assieme a Viaggiochi sofà Stiamo progettando Una serie di live Anche con Calavera Caffè Quindi live Di avventure grafiche E poi voglio fare Anche le mie Quindi adesso Vediamo di gestire Un po' Questi tre flussi Di live Vediamo un po' Se riusciamo A farle tutti Con Calavera Caffè Stiamo preparando Una puntatina Abbastanza carina Non vi posso dire nulla Ovviamente Perché ancora Tutto sotto segreto Insomma Stiamo Faremo un monografico Su una serie Di avventure grafiche Molto classica Che di quale È uscito anche Un diciamo Un nuovo capitolo Tra virgolette Recentemente Però insomma Adesso Poi vedremo Adesso anche con Calavera Caffè Abbiamo molti progetti In mente Da portare avanti Una cosa Un'altra cosa Di questo videolog La Ne approfitto anche Per parlare Di una cosa Che avevo dovuto parlare prima Ormai è passato Già da un mese Un mese Un mesetto Da quando sono stato a Londra Ho fatto un piccolo viaggio A Londra Ho visto la mostra Che ormai sta finendo Mi sembra Finirà in questi giorni Non è già finita forse Sui videogames Che era Il Victorian Albert Una mostra bellissima Sul quale volevo fare un video Ma Devo ancora capire come farlo In realtà Però prima o poi lo farò Giuro Questa mostra bellissima Sul videogioco Anzi Sul videogioco Intero Cioè Sia sul Prodotto Sul Diciamo Processo creativo Che porta alla creazione Di un videogioco Contemporaneo Quindi non è nulla di Non è nulla di storico Non è una mostra Che si crogiola Nella nostalgia Come tante altre Ma è una mostra Che parla del videogioco attuale Del videogioco che c'è Adesso E questo mi è piaciuto molto Parla del processo Fa vedere Sì i processi Di creazione Del videogioco Quindi come Un videogioco viene concepito E portato A compimento In un certo senso E poi c'è una parte finale Nella quale si In un certo senso Si illustra Quelle che sono le problematiche Del videogioco Sia come medium Comunicativo Sia anche come Medium Diciamo Come diciamo Prodotto culturale Quindi anche tutte le Come posso dire Tutte le questioni Un pochino spinose Che girano attorno al videogioco Sulla violenza Tutto il fatto Sulle donne Sulla parità Su Su tante cose Insomma È una mostra Che mi è piaciuta molto Come è stata fatta Come è stata affrontata Come è stata costruita Ve l'ho detto Mi piacerebbe fare molto Un video Adesso proverò a farlo Prima o poi Dovrò trovare un modo Però lo farò Sicuramente E altra cosa però Carina Adesso lo dico qui La sparo così Ma anche questo Mi è semplicito fare Una cosa apposta Sono andato in pellegrinaggio Alla casa di Sir Clive Sinclair Non so se questo nome Vi dice qualcosa Sir Clive Sinclair Fu il creatore Del ZX Spectrum È un Un inglese Un imprenditore inglese Creò Questo computer Portatile Questo portatile Ciao Questo home computer Degli anni 80 Molto famoso Molto Molto Utilizzato in Europa Soprattutto in Inghilterra Ovviamente ZX Spectrum Chi ha la mia età Anche un pochettino Più vecchio In realtà Lo conosce bene Perché sono andato Nel pellegrinaggio Alla casa La vecchia casa Del signor Sinclair Perché? Perché Lo Spectrum ZX Spectrum È stato il primissimo La primissima macchina Che io ho Visto Su quale Ho giocato Il mio primissimo Videogioco Quindi la mia passione È nata Forse magari non è proprio Nata quel giorno lì Però insomma È nata Il mio primo contatto Col mondo dei videogiochi È stato con Una ZX Spectrum E quindi Dovendo andare a Londra Non sapendo Se potevo Tornarci mai più Ho deciso di andare In pellegrinaggio A casa del signor Sinclair Per rendergli In un certo senso Omaggio Per rendere omaggio Alla Nascita Della mia Della mia passione Per i videogiochi Che spero sia Una componente Diciamo Fondamentale Di quella che è La mia vita In questo senso E quindi niente Ho voluto fare Di questo pellegrinaggio Mi sono fatto anche La foto sotto la targa Mi sarebbe piaciuto Fare un video Proprio solo su questo Ma È difficile È un po' difficile Capire anche Come impostare la cosa Dovrei provare A fare un nuovo format Qualcosa del genere Però adesso Sto provando Comunque A portare avanti Questo format Questo di Dolphin Gamer Un po' mi soddisfa Un po' no Come sempre Come tutte le cose Che faccio Non sta avendo Un grandissimo successo Ma questo è normale Perché Ormai i miei video Non hanno più La cassa di risonanza Che avevo una volta Non che una volta Avessi chissà Quanti video Quanti visualizzazioni Ma Ne avevo comunque Più di adesso Vabbè Cioè era anche L'youtube Era anche un posto diverso In realtà Non ho più questa Non ho tante visualizzazioni Non stanno girando tanto Però Però insomma Adesso io Proverò a Continuare a farli Andare avanti Magari proverò con nuove cose Un po' Devo fare un po' Di ordine nella testa Perché ovviamente C'ho tante cose Che sono lì Che si scontrano Alla fine Non combino Quello che dovrei combinare In realtà Però insomma Vediamo un po' Come va avanti Adesso proverò a fare Questi due o tre video Magari uno su Devil's Day Uno su Sleep Stream E su altre cose Che ho giocato ultimamente Altre cose che voglio giocare E adesso farò un altro video Per dirvi che cosa giocherò O comunque che cosa Sto aspettando I titoli che sto aspettando Di Con più ansia Ve lo farò presto Io Intanto vi saluto Vi ringrazio Di essere qui Aver scontato Le mie Il mio flusso di coscienza Che è stato qui Vorrei fare altri video log Li farò Tenterò di farli Così in maniera Molto discorsiva Molto così A flusso di coscienza Con pochi tagli Con poche cose So che magari Non saranno bellissimi Da vedere Ma spero siano Almeno carini Da ascoltare Grazie ancora Di essere stati qui con noi Io E ecco The Dolphin qua Vi salutiamo Diamo appuntamento Alla prossima volta Al prossimo video Che spero sia presto Ciao